Un saluto come state ben ritrovati, un abbraccio a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, iscrivetevi, lasciate un like, scaricate anche l'app di numero 10 per vincere la male del vostro giocatore preferito della vostra squadra e specificate quando entrate nell'app che è gratuita la squadra che ti fate, perché è importante scrivete voi il vostro nome qui sotto in un commento, nome e iniziale del cognome da dove ci seguite. Ragazzi, incredibile, soltanto 24 ore fa chi l'avrebbe mai detto è saltata definitivamente la trattativa tra il Milan e Taremi, davvero incredibile, Taremi non sarà un giocatore del Milan, poche ore dopo, comunque 24 ore dopo l'accordo che era già stato trovato. Sapete che il Porto aveva cambiato poi le carte in tavola, ma la situazione era stata risolta, l'entourage aveva cambiato le carte in tavola, aveva più soldi anche a livello di commissioni, un ingaggio più alto e questo ha portato il Milan a lavorare ancora, anche questa mattina, però poi non si è riusciti ad arrivare in fondo e Milan si chiamò ufficialmente fuori da questa trattativa. Non credo che ci erano colpi di scena, cioè che poi era una chiamarsi fuori strategico per poi magari far avanzare l'altro, credo a questo punto che davvero ci sia una croce sopra e che purtroppo per il Milan Taremi non arriverà e purtroppo per Taremi non andrà al Milan, ecco la cosa è a vicenda. Incredibile, questo è un mercato che ci insegna che finché non c'è la firma bisogna stare molto attenti e il Milan ha provato, ha provato, è andato oltre anche a certi ostacoli, ma non c'erano più le condizioni per andare avanti. Vediamo se ci saranno idee alternative a questo punto, però il tempo stringe e sembra molto complicato, almeno per quanto riguarda un numero 9 valido, questo ovviamente blocca anche Colombo verso il Monza. Vediamo cosa succede, incredibile davvero, Mina ieri aveva semaforo verde, poi le cose sono cambiate. Che ne pensate? Scatenatevi qui sotto nei commenti, secondo me è una delle vicende più particolari, più bizzarre con quella di Samarzic, di questo calciomercato. Scaricate l'app di numero 10 in palio alla maglia del vostro giocatore preferito, che per i Milanisti non sarà questo punto Taremi, è gratuita, scrivete qui sotto il vostro nome. Commentate e datemi il vostro punto di vista, il vostro sentimento. Un saluto.